Musica Musica Che poi il bello è che quando parte la sigla ce la cantichiamo sempre noi Sì infatti non smettiamo mai di ascoltarla Non riusciamo Cioè ce la cantichiamo Con delle parole perché non significano niente Nelle puntate canoniche Cluster Kpop affronta gli argomenti relativi al Kpop Quindi tutte le news Andiamo a leggere quella classifica Tra pochi minuti avremo la mezz'ora dedicata totalmente alla classifica dei pezzi più forti del mondo Ho esagerato? Ricordiamo sempre come è formata questa classifica L'insieme delle visualizzazioni, degli ascolti, delle vendite, un po' tutto c'è dentro Le piattaforme musicali Vengono dati dei punti in base alle posizioni che hanno nelle varie classifiche E con questo appunto con i punteggi vengono create queste classifiche È troppo bella questa canzone È vero è stata la nostra canzone dell'estate Vengono la malinconia Io inizialmente l'avevo definita una trashata Realmente è una delle canzoni mie preferite in assoluto Però a nostra riscolta Se guarda i miei video una trashata è un po' trashonazzo Sì 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 Bipolarismo intranciato perché due secondi prima eravamo a festeggiare il mare E a proposito di varietà ci sono anche le tre marie qua Che nella chart sono rimaste qua da due mesi Si tengono per mano queste tre ragazze Si tengono per mano queste tre ragazze E poi c'è lui che non si sa bene cosa ci faccia in mezzo Tiene le mani a tutte quattro ragazze È il bidello, lui è il bidello Sono le tre compagnie di classe Quindi abbiamo le tre compagnie di cluster Allora sono le stesse canzoni tre mesi fa Ma tolta la numero uno che è cambiata negli ultimi tre mesi E le altre sono tutte le stesse Però effettivamente di solito la classifica La si prepara il giorno prima, due giorni prima Noi così, ma che classe ragazzi Ragazzi se ballo mi riprendo Eh no no no, se no poi non dormo tutta notte Ma mi sono un po' ripreso questa parte qua che non ho messo Quindi gli abbiamo fatto calare la palpebra con i due pezzi del coso del cuore e quell'altro in coreano E poi adesso boom! L'abbiamo riaperte di botto con Dynamite Con questo pezzo super esplosivo che è veramente un successo incredibile Fiancé, fiancé, en français Mi no Mi no Mi no, en français Mi no, excusez moi Parli francese? No Eh che cacchio Tu parli diciassette lingue, io una e mezza, non ce ne becchiamo una Vabbè meno male che parliamo tutti e due italiano Adesso imparano il cinese Adesso impari il coreano Il coreano Adesso farei la trasmissione da solo, lo so No Io non sto piacendo Voi state piacendo Ma che bomba con questa canzone È molto complessa Cioè c'è un sacco di... è studiata bene la canzone Mi piacciono di più delle precedenti che ti amo È più canzone Bellissima Su questo silenzio di base vi diciamo, come spoiler per la prossima canzone Che siamo felici come due bambini Ti piace? Va bene Ciao Ari, grazie Ciao Mi piace troppo, ti giuro Mi piace troppo, ti giuro Sta uscendo troppa bella musica Troppa E' proprio il... questo è il momento Ci sono canzoni che ti liberano l'anima Ci sono canzoni che ti liberano il cuore Ci sono canzoni che ti liberano il naso Come quelli dei Dick's Cinex Nebulizzato Non l'aspettavo Bella, mi piace troppo Eh? Mi piace troppo questa parte bella Sì sì, no è bella, bella, bella Ma senta adesso lì parmese Mi piace troppo Non c'è tanto di canzoni da parte passerella Eh sì è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È solo in base, è vero, è vero, è vero. Ed è arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori, perché amano le monografie, noi lo sappiamo, assolutamente. E noi ci divertiamo un sacco e io scopro tanti gruppi e canzoni che non conosco, quindi è una cosa bellissima. Ti piacciono i tornelli, questo stile, qua c'è tanta gente che canta. Ti piacciono a te? Anche le forali, i belli. Eh sì, i tornelli ci stanno, ci siamo proprio... Dico che abbiamo al tele... Non abbiamo al tele... Guarda, lo sapevo. Guarda, ci mancavano un po' le monografie con le telefonate. Lo sapevo. Allora, adesso datemi un secondo che lo recuperiamo, vediamo, eh. Ora, Giovanni, sei ancora con noi? Ma che bello! Oh, meno male, meno male. Allora, dai, raccontaci un po' chi sono le 21, quando nascono, come nascono, vai. Stanno avendo un successo veramente incredibile. Scriveranno sicuramente una grande pagina della storia del K-pop, anche perché, come ci scrive la nostra Nicole, non si fermano mai e ce ne stiamo accorgendo. E come non si fermano mai, non ci dobbiamo fermare mai neanche noi, che ce lo andiamo ad ascoltare. Ci ascoltiamo un paio di canzoni e dopo ci parli delle 21. Chi sono? Cosa fanno? Perché? Anche perché vi sono piaciute da subito. Va bene? Allora, ce le ascoltiamo e a tra pochissimo... Siamo arrivati alla parte in cui leggiamo un po' di vostri messaggi. Dai, che è giusto darvi spazio. Voi ci scrivete per tutta la sera. Noi, ovviamente, adesso abbiamo molte più cose da dire, quindi non riusciamo a trovare tutto il tempo che serve. Ma l'ultima mezz'ora la dedichiamo sempre ai nostri, ai vostri messaggi, perché è giusto che sia così. Ci scrive Nicolas. Buonasera Ari e Ivan, è la prima volta che scrivo in radio, anche se vi seguo un po' anche su Twitch. Ho seguito con piacere il vostro intervento da Manuelito e da Manuel Agnelli. Mi sono sentito davvero rappresentato da voi in quanto fan di questo genere. Ho visto in voi grande entusiasmo, amore e orgoglio mentre parlavate. Complimenti per l'ottimo lavoro in tutti i progetti attivi. Un saluto a tutti gli ascoltatori. PS, ho recuperato la live di venerdì con i primi due episodi del drama. Spero di riuscire a vedere la prossima in diretta. Wow! Ne approfittiamo per mandare l'abbraccio fortissimo alla ragione della mia vita, Rose. Rose? Rose? Rose, non c'è. Senza cento, Rose. Che anche se ci siamo viste solo ieri già mi manca. Attenzione perché qui leggo il mio messaggio preferito che è questo messaggio è stato eliminato. Ma vuoi ridere? Questa volta che il nostro VIP ti ha inviato il messaggio ed è stato eliminato. È vero, il VIP mi ha mandato il messaggio e poi l'ha eliminato. Cioè adesso è anche passato in quella parte lì. Tutto potete entrare nella Pitcho Family. È un 24.7 di gente sempre lì, 365 giorni l'anno, pronta a tirarvi sul morale se siete tristi. A farvi ridere o ridere insieme a voi se siete allegri. Quindi iscrivetevi alla nostra pagina Telegram che è veramente meravigliosa. Allora, essendo multi-fandom di un po' di tutte le generazioni K-pop devo dire che ci metterai troppo a scrivere tutti i gruppi che seguo. Tra i miei gruppi preferiti ci sono i TVXQ, i Suju, i Beast, i Shinies e le Sista. Ma tra la seconda generation di quelli che aspetto con Anthem Comeback sono gli Infinite. Ok, adoro la vostra trasmissione che mi tiene compagnia tutti i lunedì sera. Ma che bello, grazie, grazie Sofia. Allora, innanzitutto Nicolas, grazie perché ci hai detto delle cose bellissime. E fa veramente piacere una cosa, soprattutto Ari, che lo sforzo che ci mettiamo ha un senso allora. Sì, è vero, sono commenti come questi. Esatto. Poi noi ovviamente facciamo del nostro meglio, del nostro piccolo. Però ci fa sempre piacere ricevere dei commenti positivi di questo tipo. Allora, vediamo quanti messaggi. Vai, dai. Il Spana è d'accordo sul fatto che ci sono troppi Comeback da parte dell'esterno. Ma si capisce più niente. Non era pronta per Tiger Inside, figuriamoci ora per One, gli NCT 2020. Esatto. Io ti faccio una domanda. Immaginati la scena. Gli NCT dentro a una palestra, si guardano, ma secondo te si conoscono tutti, tra l'altro? No, ma seriamente? Se avete un compleanno, una festa che è vicina ad un lunedì in cui noi siamo in diretta, voi scriveteci e faremo il possibile per cercare di suonare la vostra canzone, o se non la vostra canzone, comunque almeno di leggere la vostra dedica. Non possiamo leggerle tutte, se no faremo un'ora di dediche. Questo è abbastanza... Sarà bello, però. No, certo. Però chissà, magari poi creeremo un nuovo programma con solo dediche. Dediche sui pochi. Dediche Hip Hop. Non sei tu che devi ringraziare noi, ma noi che dobbiamo ringraziare gente come te, che fa volontariato e aiuta le persone bisognose. E' stata via per una casa... Quindi a te e so che anche Simon fate questa cosa splendida, voi e tutte le persone che ci ascoltano, che spendono del loro tempo per aiutare chi è un po' meno fortunato, grazie, perché questo vi meritate, un gran grazie. Tac, ne risvegliamo subito. E va beh, questo è il nostro stile. Allora, manca pochissimo, già è andata la prima puntata. Ma come sempre, no? Dopo un mese pensiamo fossero rallentati un po' i tempi. Chiudiamo in gran bellitudine, veramente. Però, va beh, allora, facciamo che per i saluti, quindi torniamo dopo. Adesso leggiamo una bella dedica, perché abbiamo questo spazio dediche, lo ricordiamo a tutti, ci potete scrivere per chiederle. E vi leggo il messaggio e poi faccio partire questa splendida canzone. Allora, il messaggio è Cara Ali, sono passati 12 mesi in cui mi sopporti e mi supporti in tutto. In 12 mesi ne sono successe di tutti i colori, tra quarantena, vacanze e altro. Eppure siamo ancora qui, che ci amiamo e ci vogliamo del bene. E niente, ti dedico questa canzone in modo ancora più originale dell'ultima volta che abbiamo fatto i sei mesi. Ti amo tanto. Questo è un messaggio per Alice da parte di Lukia. La mia amica sta prevedendo tutte le canzoni, sarà una leggente? No, probabilmente è qui in studio. Dov'è? Amica sua? Dove sei nascosta? Beh, non si poteva chiudere in maniera più dolce una serata del genere. Sì, veramente siamo molto gentili. Sì. Va bene. Ragazzi, buonanotte a tutti. Ci sentiamo presto, ci vediamo prestissimo, perché è venerdì. Vi aspettiamo su Twitch. E con la buonanotte del nostro Leonardo, che ormai è diventato il capostipo, della trasmissione, che dice un bellissimo buonanotte ragazzi, bella musica, ciao. E se lo dice lui, noi siamo contenti, vi diamo la buonanotte, vi aspettiamo in settimana con un sacco di altre cose, e poi sicuramente con Cluster K-pop lunedì sera. Ari, buonanotte. Buonanotte a tutti ragazzi, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a tutti come sempre di essere qui, e nei prossimi giorni mille, milla novità, perché questa settimana è a dir poco piena. Sì, sì, sì. Eh? Dai. Sì, è una settimana pienissima. Ari, grazie come sempre, ci sentiamo lunedì prossimo, e buonanotte a tutti! E buonanotte a tutti!